Siamo in Viale Conte Allora ragazzi, vorremmo notificare che la presenza di babytoni è alquanto frequente. E' pieno di babytoni qua. Ci sono un sacco di mini-toni, ecco ne vediamo uno vicino a mini-lazza. Come gestisci questa tremarella, manca, aiuta fresco. Questo... No bro, basta. Vi deve far riflettere. Tra, basta. In questo momento non vedete come cazzo. Massimo protagonista dei miei video, Nicolò Freschetti, hashtag freschiz. È sembra un pirla che fa le dirette su tu. Frascia, che cosa dobbiamo fare? Sì sembra un po' obiettivo. Parme, ascolta. Parme esatto, ascolta Parme. Andiamo in montagna o dove cazzo ti pare e registriamo un video. Dove tu ci parli della fisica. No, no, grazie, no. Parla con fresco della fisica. Ah, io avevo reclutato Ricky. Siccome è Ricky era l'uomo giusto. Vecchio, hai fatti. Ricchi, se vedi questo video, che cazzo stai facendo a Carpi in questo momento? Perché, perché? Comunque, non abbiamo detto dove stiamo andando, fresco. Oh, ma stai andando al Musica? In futuro questi video verranno venduti per migliaia di euro. C'è il mio cugino simulatore. Appena morirò questi video diventeranno qualcosa di raro. No, non fare il tuo testamento. No, no, non è che io li sto testando. Ehi, guardami. Ah, qua stanno limonando addirittura. Ehi, guardami. All'inizio sono un'epoca. Un'epoca nascosta. Ho spesso, un'epoca in questo modo. No, non, non è tutto il nostro. Io, gli ho ieri, guardami. Io adesso. Lo, gli ho ieri, guardami. Già, ieri, guardami. Oh, tutti. Otto, ti邊. Poi, è un spazio, ui cosa. Torniamo, tutti i raggi, tutti i raggi, tutti i raggi, tutti. Come, non dobbiamo. Sì, 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 Sì! Sì, Sì! Sì, Sì, Sì! 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 Sì!